Ciao. Posso sedermi qui? È occupato questo posto? Ciao. No, è libero. Siediti. Grazie mille. Cosa desideri prendere? Vorrei un caffè macchiato, per favore. E tu? Prenderò un cappuccino. Hai già provato il caffè di questo posto? No, è la mia prima volta qui. Mi hanno detto che il loro caffè è delizioso. Sì, è davvero buono. Ti consiglio anche di provare i cornetti appena sfornati, sono una specialità della casa. Grazie per il consiglio. Ne prenderò uno sicuramente. Vorrei un caffè macchiato e un cornetto, per favore. Prenderò un cappuccino e un cornetto alla crema. Va bene, arrivo subito con il vostro ordine. Mi piace l'atmosfera di questa caffetteria. È molto accogliente. Sì, è un bel posto per rilassarsi e godersi un buon caffè. Mi piace trascorrere del tempo con te. Grazie. Grazie. Grazie.